salve ragazze e ragazzi benvenuti bentrovati siamo qui nel mio interattivo dedicato ai segni zodiacali nel mese di ottobre quindi cosa stiamo facendo stiamo facendo un interattivo che se piacerà insomma e vi fa piacere che io lo faccio lo farò tutti i mesi dove appunto si parlerà di che cosa si parlerà di cosa accadrà al segno in questo caso del cancro farò ovviamente tutti i segni con la persona dei suoi pensieri nel mese di ottobre quindi voi nel cancro cosa vi accadrà con la persona che pensate nel mese di ottobre e andremo a vedere poi segno per segno ho scelto per voi del cancro i tarocchi della sagione abbiamo gli oracoli rispondono carte della divinazione dove vedremo l'energia di questo mese per quanto riguarda voi e poi con le carte le risposte del cuore gli angeli del cuore andremo a vedere in finale cosa ci sarà allora un segno del cancro segno d'acqua il cancro è un segno molto dolce molto comprensivo intuitivo e paziente le lettere sono è la u e la f ovviamente sono delle lettere che possono riguardare qualcosa ma non è detto e poi sapete voi allora intanto io mischio le carte degli oracoli della divinazione andiamo a vedere che energia c'è per voi del cancro appunto con la persona dei suoi dei vostri pensieri vediamo che che cosa accadrà in questo mese vediamo cosa accadrà al segno del cancro con la persona dei suoi pensieri questa è l'energia della situazione e qua c'è qui e ora quindi qua questa carta insomma l'energia di questa carta è di concentrarvi qui e ora in qualcosa numero e 32 quindi il 3 il 25 al 23 questa carta ci parla di concentrarsi nel presente ok quindi l'amore nel presente e andrà tutto bene quindi voi non pensate nelle come dire concentratevi su quello che vi succede adesso qui e ora proprio come dice la carta allora andiamo a vedere un attimo cosa accadrà al segno del cancro con la persona dei suoi pensieri relativo al mese di ottobre questo è un interattivo che io farò tutti i mesi e tutti i mesi andrò a vedere appunto segno per segno cosa accadrà al segno prestabilito con la persona dei suoi pensieri che quindi sarà sempre un tema relativo all'amore quindi andiamo a vedere farò il gioco dell'amore appunto ho deciso di fare dove prenderò due carte la prima carta sarà la carta principale la seconda la complementare e sarà la prima riga rappresenta il presente la seconda il passato e la terza riga il futuro prossimo e poi ci sarà la carta finale che rappresenterà l'esito finale allora quindi la prima carta è l'amore questo è il presente seconda carta è la chiusura il 10 di spade allora questo è presente passato abbiamo un re di spade con una temperanza futuro abbiamo una regina di spade con un 3 di bastoni carta del risponso finale è un carro a fondo mazzo abbiamo qua un bel cavaliere di spade allora che cosa c'è qua abbiamo detto che vi dovete concentrare sul presente qui e ora quindi l'amore è adesso in questo momento è nel presente voi l'avete un amore vedete qua c'è la carta questa carta degli amanti ci parla proprio di un giuramento vedete quindi qua c'è proprio il giuramento c'è il giuramento c'è l'unione c'è la scelta l'amore sincero e le prove superate però qua mi sembra tanto che queste prove non riuscite proprio a superarle in maniera definitiva perché qui abbiamo un 10 di spade quindi qua c'è nel presente che cosa c'è c'è che voi avete litigato avete chiuso c'è un vuoto c'è un allontanamento una tristezza con questa persona di cui siete innamorate di cui lui è innamorato di voi però bisogna fare questa scelta qui vedete la cosa anomala è che c'è un re di spade e una regina di spade guardate ve le metto quindi qua insomma regina di spade si parla di un segno d'aria quindi questo diciamo cancro ha a che fare con un segno d'aria sapete per il cancro dovete vederlo per segno ascendente luna e venere quindi qua abbiamo a che fare sia che siete uomini o donne con un segno di aria quindi segni d'aria suono bilancia gemelli acquario ma soprattutto questa è un'energia quindi che cosa c'è nel passato nel passato c'è che voi qua con questa persona vedete una persona distaccata una persona che non vi dimostra nulla ma ciò non significa che non è interessata a voi cioè voi avete avuto modo di stare con questa persona volevate una guarigione una calma una riflessione una pazienza però evidentemente non vi siete adattata come dovete adattarvi perché questa persona ha un modo di fare che proprio evidentemente a voi non va giù perché qua parliamo di una persona molto autoritaria vedete questo re di spade no? come tutto lui con questa faccia tutto così un po' incavolato ecco quindi questo qua è una persona anche molto autoritaria una persona distaccata che non dimostra quello che prova e che è una persona che vuole sempre avere ragione vuole gestire lui a modo suo la relazione quindi voi per quanto vi siete adattata è tutto però evidentemente qua qualcosa vi è sfuggito di mano tant'è che la situazione qua nel presente rimane chiusa quindi nel passato è stata così nel presente per quanto ci sia l'amore non riuscite ad andare d'accordo e quindi qua c'è un allontanamento nel futuro cosa succederà? beh nel futuro prossimo qua viene una regina di spade e con il tre di bastoni ora la regina di spade è una donna anche lei in questo caso che nasconde i suoi sentimenti è una donna che adesso è più lucida e più fredda e più iperlogica guardinga e austera non si vuole fare più come dire tra virgolette infinocchiare da questo re di spade quindi gli fa lotta si è messa vedete re di spade regina di spade per quanto poi probabilmente questa vostra energia voi qua o avete un ascendente legato ai segni d'aria o questa è o la luna o la venere oppure questa è proprio una vostra energia quindi qua voi anche voi nel futuro sarete distaccati e freddi e qua sarà una bella lotta perché poi vedete se siete tutte e due così per quanto vi attirate perché siete un po' carmici no? quando il re e la regina esce dello stesso segno c'è proprio una coppia carmica però poi qualcosa succederà qua ci sarà questa attesa la pazienza l'osservazione la ricerca del nuovo ci sarà comunque un progetto un qualcosa di appunto innovativo che porterà al risponso finale che è quello vedete del carro quindi qua ci sarà nuovamente un risveglio un entusiasmo ritrovato ci sarà una nuova iniziativa insomma più fiducia qui ci sarà all'arrivo di questa persona che comunque in qualche modo vedete ritornerà probabilmente da voi però vedete questo ritorna sempre con un fare un po' ecco qua il re qua il cavaliere insomma come si dice il lupo perde il pelo ma non il vizio quindi insomma diciamo che nel mese di ottobre sarà così magari sul finale ci sarà questo questa cosa questa novità quest'estro favorevole che vi porterà avere una rinascita un nuovo ritrovato entusiasmo un ritorno probabilmente però insomma questo è sempre pieno di collera è sempre uno che crea conflitti quindi insomma la persona è questa non è che cambia quindi voi comunque insomma prendetevi come dire rendetevi conto che qui per andare avanti con questa relazione probabilmente qua dovete adattarvi a questo re di spade invece voi lo combattete e la situazione assume poi degli aspetti appunto come quello del 10 di spade e insomma di queste lotte che voi vi fate allora vediamo un po' un consiglio appunto degli angeli del cuore no perché insomma parliamo di amore e quindi vediamo un po' allora prendiamo una carta viene fuori è sicuro per te amare e a fondo mazza abbiamo molto presto allora queste carte proprio ci dicono apri il tuo cuore per dare e ricevere vedete apri il tuo cuore per dare e ricevere amore quindi l'energia suprema suprema dell'amore perché per voi è sicuro amare e poi qua dovete decidere molto presto che ciò avvenga quindi qua probabilmente anche voi voi che ascoltate dovete prendere poi la decisione di fare un passo verso questa persona o comunque di decidere quando questa persona ritornerà quello che volete fare lo dovete decidere proprio in maniera veloce e aprendo il vostro cuore allora questa era la stesa riservata al segno del cancro per il mese di ottobre tra la persona del punto del cancro è la persona dei suoi pensieri ok quindi ragazze io vi aspetto nei commenti vi faccio rivedere questa carta le lettere di appartenenza grazie di essere stati con me alla prossima ciao a tutti